Grazie a Gianni Faustini, manifestazione questa mattina davanti al Palazzo della Regione a Trento per dire no agli psicofarmaci ai bambini. Il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, sezione di Trento, ha anche chiesto che venga modificata la recente legge sulla dislessia discussa in Consiglio Provinciale a Trento. Slogan e cartelloni questa mattina davanti al Palazzo della Regione a Trento, una manifestazione per dire un forte no agli psicofarmaci ai bambini. Non vogliamo, è stato sottolineato, che la nostra scuola diventi una sorta di filiale commerciale delle case farmaceutiche che segnala i bambini al neuropsichiatra. Siccome abbiamo l'esperienza dell'Alto Adige dove abbiamo visto che passando attraverso i test sulla dislessia poi i bambini vengono passati in neuropsichiatria e lì aumentano notevolmente le possibilità di ricevere anche altri tipi di test e poi c'è il pericolo che ci siano molti bambini che non sono veramente malati che poi va a finire che prendono psicofarmaci. Quindi vogliamo protestare contro questa nuova legge e chiedere che vengano introdotti dei paletti che impediscano questa medicalizzazione della scuola. Dalle 11 a mezzogiorno è stata anche consegnata la documentazione dove vengono raccontate tutte le ragioni del no agli psicofarmaci ai bambini.